Buongiorno, sono Kimura, oggi è 29 in aprile 2020 e oggi vi presento la mia nuova opera Grazie a tutti i nostri spettatori e tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori e tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori e tutti i nostri spettatori e tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori e tutti i nostri spettatori e tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori e 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 tutti i nostri Grazie a tutti 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 Grazie a tutti